Siamo col sindaco di Collegno Francesco Casciano, la sua presenza qui a sostegno del candidato sindaco Minò? Dobbiamo sostenere Gianni e soprattutto un fronte progressista in questa città che ha superato i 15.000 abitanti quindi è diventata una delle città importantissime della zona ovest di Torino e noi abbiamo bisogno di concertare le politiche perché ormai l'area vasta, cioè più comuni insieme, possono fare la differenza. Io penso che Giovanni Minò abbia le caratteristiche per fare una politica integrata non solo valida per pianezza ma anche per avere una pianezza che condivide i grandi progetti di sviluppo della zona ovest. Io sto con Gianni.